ci facciamo belli perché andiamo a trovare i ragazzi di go camera a bologna alla fiera della subacquea mi mancano solo gli occhiali e possiamo partire eudishow salone europeo dell'attività subacquea nel 2016 si è registrato nei tre giorni di fiera l'ingresso di oltre 33.000 visitatori andiamo a vedere se ci sono anche quest'anno mamma mia un viaggio eterno per arrivare a bologna ragazzi non sono più abituato a girare in città si sta troppo bene sulla zocca ancora due uscite adesso bisogna trovare il parcheggio auguri oh il parcheggio l'ho trovato non so se stasera ritroverò la macchina quando arrivo o se troverò la barra abbassata che sarà un casino sono finito dentro al comet a parcheggiare passeggiamo fino all'ingresso michelino il massaggio subito eh non mi riprendere però eh no no riprendo lui riprendo lui a dopo ciao ah eccolo qui buongiorno buongiorno novità della fiera accidenti non l'avevo vista ma nuovo logo nuovo logo cacchio non l'avevo ancora visto ti piace? si bello c'era anche prima Italia anche prima Italia per il logo mi ricorda qualcosa questa se non avete visto il video cliccate lì in alto così vedete anche il video famoso che abbiamo fatto con questo accesso a qui a Una televendita Ti sto riprendendo nel frattempo Ti sto riprendendo nel frattempo